Immagina un luogo dove ricerca e impresa si incontrano per produrre innovazione. Un ecosistema in cui laboratori di ricerca, professionisti, imprese, centri per l'innovazione sono interconnessi e lavorano in squadra. In Emilia Romagna questo luogo esiste già. È la Rete Alta Tecnologia. Con i suoi laboratori di ricerca industriale e i suoi centri per l'innovazione, fornisce competenze, strumentazioni e soluzioni per lo sviluppo delle imprese. La Rete aggrega organizzazioni pubbliche e private accreditate, università e centri di ricerca e li mette in contatto con realtà imprenditoriali che vogliono innovarsi e necessitano di know-how. Le imprese possono contare sulla Rete Alta Tecnologia per trovare soluzioni innovative di cui hanno bisogno, ottimizzare processi produttivi, sviluppare nuovi prodotti e realizzare progetti. Sei un imprenditore? Vuoi innovare il tuo business ed eccellere nel tuo settore? Il sito web della Rete Alta Tecnologia fornisce le risposte alle tue esigenze. È tutto a portata di clic. Basta accedere a www.retealtatecnologia.it e inserire una parola chiave nel motore di ricerca. Troverai laboratori di ricerca che studiano innovazioni applicabili ai più svariati campi, meccanica e meccatronica, agri-food, costruzioni, energia e sostenibilità, automotive, salute e biotecnologie, intelligenza artificiale e tecnologie digitali, cultura. Troverai centri per l'innovazione che offrono informazione e valutazione tecnologica, assistenza tecnica, individuazioni di partner e costruzione di reti per l'innovazione, supporto nella ricerca di finanziamenti e predisposizione di progetti. Grazie alla Rete Alta Tecnologia, la tua impresa può espandere le proprie potenzialità, far crescere ulteriormente il sistema produttivo ed entrare tra le eccellenze dell'Emilia-Romagna. Rete Alta Tecnologia dell'Emilia-Romagna, dove ricerca e impresa si incontrano per produrre innovazione. Rete Alta Tecnologia è cofinanziata dai fondi europei della Regione Emilia-Romagna e coordinata da Arter.